E adesso è arrivato il momento della rubrica curata da Silvia Pagni, stiamo parlando di Biglietto da Visita. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica Biglietto da Visita. Oggi da come noterete siamo proprio sotto le festività natalisi. Abbiamo addobbato per bene la nostra SLM, pensate quest'anno non un albero ma ben due perché qui è pieno sempre di grandi e piccini artisti e noi li vogliamo tutti quanti coccolare. Vado subito a presentare l'ospite di oggi che è una persona che ha fatto innamorare generazioni e io sono veramente onorata di averlo qui. Gentile ospite, mi sente? Certo, certo che vi sento, ti sento. Ciao. Ci sveli il suo biglietto da visita. Allora il mio biglietto da visita, a raccontarla tutta, diventa un bigliettone. Comunque io sono nato a Domodossola, che è una cittadina molto bella di frontiera e che mi ha trasmesso questo spirito della ricerca del viaggio. E poi grazie al mio lavoro ho cominciato a muovere i primi passi a Milano e poi anche all'estero con tante collaborazioni, comprese Londra, Los Angeles e New York. E oggi sono qua con voi. Mi chiamo Alberto Fortis. Buongiorno. Mamma mia, che onore Alberto. Posso darti del tu? Certo, David, dobbiamo. Ah, guarda, per me è veramente un grandissimo onore averti qui perché io sono stata e sono ancora una tua fan. Andrei subito con la prima domanda perché i 20 minuti con te sicuramente saranno pochissimi. Prima di farle, allora vado subito, vorrei parlare del suo grande successo, cioè negli anni 80, pensate, sei stato in classifica e eri dietro a Michael Jackson e Diane Strait. Com'è nata questa passione? La sua vita, ci racconti proprio la sua vita artistica? Ma dovevi darmi del tu, allora la tua vita. Ma posso dire una cosa, io dico sempre così, però poi mi è sempre un po' complicato, quindi sicuramente dirò tu, lei, non farci caso. Ora mai mi conoscono. Poi so che sei musicista, anche tu siamo colleghi, quindi va bene. Allora, io i primi momenti di musica li ho capiti quando avevo cinque anni perché, appunto come ho scritto anche sulla mia biografia, ho chiesto questo regalo a Babbo Natale, visto che siamo vicini a Natale, e ho chiesto un giocattolo e che si pensava che fosse un gioco. In realtà è uno strumento che non ho mai più lasciato, ma neanche ai giorni d'oggi, anche se poi chiaramente ai 17 anni circa ho cominciato con il pianoforte, che poi è diventato il mio strumento a tutti gli effetti. Anche se poi, insomma, io sono stato uno studente di liceo classico e poi di medicina perché vengo da una famiglia di medici. Ho fatto i primi tre anni piuttosto regolari di medicina e poi comunque è arrivata l'occasione contrattuale e quindi ho cominciato la carriera artistica. La cosa curiosa è che l'ho cominciata grazie a una persona che voi conoscete molto bene e che ancora oggi ha una grande voce in capitolo della musica, che si chiama Mara Maionchi. Ah, grande Mara Maionchi, un personaggio veramente a 360 gradi. Ha tirato fuori tanti personaggi e continua a farli come te. Quindi noi la ringraziamo per questo. Da quello che ho letto in biografia, so che dovunque andavi con i concerti non riuscivi nemmeno ad uscire dai camerini per quanta flotta di ragazze ti assalivano, giusto? Sì, è vero e i concerti sono sempre una cosa che io adoro, anche quelli che stiamo facendo ai giorni nostri e soprattutto quest'anno è stato un anno veramente molto ricco, partendo da quello che è stato il battesimo del nuovo singolo che è successo a maggio di quest'anno. Abbiamo fatto un concerto in Piazza Scala, poi c'è stato un concerto nella prestigiosissima sede, ne cito alcuni tra gli altri, del Vittoriale a Gardone, sul Lago di Garda. Poi abbiamo fatto questo concerto meraviglioso con tutta la band e l'orchestra sinfonica all'Anfanteatro Alfano di Sanremo. Tutto su internet si può vedere, insomma, tutte le tour, le date che abbiamo fatto, adesso le prossime saranno molto vicine, tornerò di nuovo in Puglia per questo concerto il giorno 3 di dicembre, poi sarò l'8 a Brescia per il concerto annuale dell'evento lennoniano dedicato a John Lennon, dopodiché ci sarà il 15 un bello spazio su Rai 1 in occasione di Teleton e poi il giorno 17 sarò in concerto a Napoli. Quindi io invito tutti chiaramente a seguire su Instagram, su Facebook, su TikTok, perché stiamo lavorando più adesso di tanti anni fa. Ma che meraviglia, guarda, sono felicissima perché vivere di questa bellissima arte è sempre un qualcosa di fantastico. Vale un pochettino a ritroso, so che ho avuto tanti incontri con personaggi veramente irraggiungibili, ma qual è stato l'incontro più significativo e folle? Ma quello più significativo è stato senz'altro con Sir Paul McCartney, perché per diverse cose, insomma, chiaramente io sono un devoto Beatlesiano e il mio quarto album, Fragole infinite, è stato registrato proprio agli Abbey Road Studios a Londra, cioè la casa artistica di Beatles e questo mio lavoro vede anche la collaborazione, la partecipazione del loro produttore di George Martin e proprio in quella sedia ho avuto l'occasione di conoscere appunto Paul McCartney, Linda, che era allora la moglie di Paul, una dei figli, esattamente Stella, che allora aveva circa otto anni, che poi è diventata insomma quella famosissima tycoon nella moda, nel fashion. E questo è stato chiaramente una cosa per me molto significativa, ripeto, data anche la mia devozione Beatlesiana. Poi ci sono stati tanti momenti, tra cui aprire il concerto a sua maestà Bob Dylan a Genova, per il scenario della scoperta dell'America, dell'anniversario della scoperta dell'America, poi aprire agli esordi della carriera, e lì avevo veramente la tremarella, aprire il concerto allo stadio di Modena a James Brown. E qui siamo, non era nemmeno uscito il mio primo album, era uscito soltanto il singolo, si cominciava a avere qualche segnale buono, ma voi potete immaginare un ragazzino in uno stadio all'ora, aprire il concerto a James Brown. Quindi, insomma, questi sono stati momenti significativi, e poi tutte le collaborazioni, quelle più recenti all'estero, ne cito due, una a New York, con due lavori fatti con Carlo Salomar, che è stato per vent'anni coproduttore, collaboratore, band leader di David Bowie, e poi su Los Angeles, con tantissimi musicisti, tra cui questo bassista storico, è considerato tra i, credo i 7-8 bassisti nella storia della musica, che si chiama Abram Laboriel, il cui figliolo, conosciuto anche lui ragazzino a Los Angeles un po' di tempo fa, ad oggi è il batterista ufficiale di Paul McCartney, è quel ragazzino black che oltretutto non solo suona la batteria meravigliosamente, ma canta anche molto bene. Quindi io queste cose le dico perché è strano come l'arte riesca a creare proprio dei fili del destino che ti collegano con determinate cose che all'inizio vedi proprio come quasi dei punti irraggiungibili e li vedi come una bloggera. Per cui ringrazio veramente l'arte musica per questi toni meravigliosi della vita. Sì, ma adesso mi viene un po' spontaneo, diciamo. Hai nominato veramente dei colossal della musica, ma oltre alla bravura ci vuole tanta fortuna anche, giusto? Cioè come sei arrivato a toccare questi personaggi così, spaziali? Senz'altro diciamo che la buona sorte serve, ma io praticamente sempre sono arrivato ad agganciare queste persone per casualità che non sono state create dalla casa discografica o dal manager o da che cosa. Per una questione, per esempio, le prime conoscenze, io ero andato per amore di questa ragazza americana a Los Angeles e lì, per una situazione proprio fortuita, ho conosciuto i musicisti che poi avrebbero collaborato con me, tra cui appunto questo Abraham Laboreal, di cui ho raccontato prima, con il quale abbiamo fatto il terzo album, La Grande Grotta, che contiene canzoni come Settembre, La Negna del Salvador, La Grande Grotta, Marilyn, eccetera. Quindi, e questo è stato veramente un incontro tra persone e tra musicisti, perché io li avevo incontrati casualmente a un loro concerto. E in qualche modo, pur essendo tendenzialmente molto timido, ho sentito come un richiamo per andare a parlare con loro a fine concerto e esprimere il mio desiderio che sarebbe stato quello di fare un album con loro. Sembrava una cosa impossibile, sono in Italia, nessuno voleva darmi retta, tranne il mio produttore storico che è Claudio Fabi, papà di quel Nicolò Fabi, che è cresciuto tanto con noi in giro, in tour, che tutti conosciamo. E quindi sono sempre, quasi sempre state delle scommesse vinte, ma in qualche modo proprio spinte dalla forza dell'arte. Quindi io questo lo dico perché lo dico ai ragazzi giovani, soprattutto quando mi chiedono che cosa si può dire a una persona, a un artista, l'artista lo deve dimostrare nel tempo che comunque comincia la sua carriera. Ecco, dico questo, di non preoccuparsi delle prime porte sbattute in faccia che si possono ricevere, il mio primo album non lo voleva nessuno per due anni e mezzo, poi è arrivata una persona che ha detto di sì, per esempio così come è successo a tanti altri artisti, uno e soprattutto due, veramente cercare di capire che questo è un lavoro serio, non è un lavoro dove con connessione televisiva poi insomma si hanno magari dei momenti di gloria immediati, ma oggi bisogna stare molto attento a questo, bisogna stare molto attenti all'effimero e quindi sapere davvero che questo è un lavoro serio, un lavoro difficile, ma se è quello che si vuole fare, assolutamente buttarci tutta la forza e il credo possibile. Assolutamente sì, anche diciamola tutta, l'Italia con gli Stati Uniti c'è un abisso spaventoso anche come collaborazione. Io vado avanti anche perché... No, sottolineo una cosa, forse c'era quando mi è capitato di fare i primi lavori, quindi parliamo anni 80 e 80 avanti, perché anche dal punto di vista della tecnologia, della preparazione media il salto era forte. Ad oggi devo dire che si sono ristretti molto questi gap, queste differenze e anche perché la musica si fa in maniera diversa, delle volte anche lì eccessivamente indulgendo alla tecnologia e quindi anche non essendo dei preparati musicisti si riesce a fare un disco, però è diventato un po' di più il linguaggio globale. Certo la lezione che io ho avuto lavorando all'estero e continuando a collaborare soprattutto è stata questa, io ho visto dei nomi alti suonanti che ti trasmettono questo proprio imperativo, insomma questo comandamento, non sentirsi mai arrivati perché c'è sempre chi è più bravo. E quindi ho sempre visto un grande lavoro, una grande dedizione anche in persone che avevano e hanno un nome grande come una casa. Sì sì la penso anch'io, infatti anch'io ai miei piccolini dico sempre così, mai dire sono arrivata, sono brava, bisogna sempre studiare. Comunque hanno mirato dei colossal, ma qualche giorno fa è stato il compleanno della più grande, penso, voce femminile stile rock, Tina Turner. Sappiamo che l'hai conosciuta? Allora qui dobbiamo parlare un po' di più perché io amo questa donna, amo la sua grande forza sia sul palco ma sia anche come vita perché ha vissuto in una situazione molto delicata che purtroppo è un qualcosa che tuttora oggi esiste, è un qualcosa veramente che dovrebbe essere vergognoso. Com'era lei come artista? Allora vabbè, come artista la conosciamo tutti ed era veramente una forza della natura, non dico niente di nuovo. Io grazie a questi amici discografici della Warner Los Angeles di allora ho avuto la fortuna di conoscerla e precisamente dopo il suo concerto al Forum di Los Angeles siamo a metà degli anni Ottanta circa, poco dopo la metà degli anni Ottanta e soprattutto la cosa più toccante e emozionante è stato poter fare con questi amici discografici e con lei il viaggio in auto con lei per andare a quello che sarebbe stata la festa dopo concerto. E mi ha confermato questa forza umana, personale, nel senso proprio più meravigliosa perché è una donna che fa capire quanto ha lavorato nella vita e appunto anche ha dovuto superare per ciò che accennavi tu prima in quei suoi rapporti di inizio con Ike e quindi che era il compagno di allora sappiamo benissimo insomma anche i maltrattamenti che ha dovuto sopportare, ma una forza anche di una persona dove tu vedi assommato anche le più meravigliose figure femminili, cioè senti di avere di fronte a te una grande artista, una grande anche se non la conosci bene amica, una persona che potrebbe essere una parente e questo viene dal fatto proprio di essere delle belle persone. Sì, infatti lei è eccezionale ancora oggi. Cambiamo registro, il suo brano è del 1978, questa è una mia curiosità, c'è un Vincenzo ti ammazzerò, ma chi è questo Vincenzo? Vabbè, insomma rispondo per la sette miliardesima volta. Eh questo io non lo so la risposta, quindi sono curiosa. Comunque, vabbè Vincenzo lo sanno in moltissimi, è un discografico, è un signor discografico che mi aveva fatto contratto la RCA, esattamente alla IT che era l'etichetta all'interno della RCA da lui curato. Ricordo innanzitutto che, dico signor discografico, perché Vincenzo Micocci, questo è il suo nome e cognome, è stato lo scopritore della scuola romana, quindi di Antonello Venditi, di Francesco De Gregori, poi di Rino Gaetano, poi di Paola Turci, e addirittura gli inizi del maestro Ennio Morricone si devono un po' a Vincenzo. Chiarisco che poi dopo, insomma, la buriana iniziale, i rapporti si sono poi comunque ripresi, e addirittura io ho lavorato poi con i figli di Vincenzo e sono molto amico in particolare di Francesco Micocci, ancora ad oggi, con cui facciamo ogni tanto delle belle cose insieme, ma questo mi era venuto dal fatto che potete immaginare che quando ha neanche vent'anni un artista viene subito firmato, quindi messo sotto contratto perché gridano al miracolo e poi di mese in mese si deve cominciare il disco e invece si sta bloccati per più di due anni, voi potete capire che a quell'età prima o poi si sbotta. Certo sbottato in una maniera molto particolare, però in qualche modo questa canzone ha decretato anche un inizio di successo quasi inaspettato, sorprendente. Ecco, benissimo, ma quanto è cambiato Alberto Fortis e il mondo discografico dal 1978? Ma il mondo discografico è cambiato totalmente così come è cambiato il mondo totalmente, sappiamo oltretutto che la forma d'arte e musica è la forma che ha l'aspetto, la velocità sensoriale più forte rispetto ad altre forme d'arte, senza togliere niente le altre forme d'arte, ma si sa, la musica è la più immediata, reagiamo alla musica come se fossimo delle piante, quindi è cambiato tutto sia negli anni ma poi con l'avvento della liquidità totalmente, quindi è anche vero che è stato un settore forse il più saccheggiabile e senz'altro insomma il più colpito in quello, a parlo a livello poi di quello che è tutta la macchina finanziaria, perché ci siamo ritrovati di colpo a vedere che insomma i ricavati della musica erano difficili perché tutto veniva downloadato eccetera eccetera, quindi è cambiato tutto, quindi è anche cambiato il modo degli addetti ai lavori di concepirla e di comunicarla e qui nasce insomma il famoso sliding doors, il bivio, a cui bisogna stare molto attenti perché questo ha portato anche a tante pecche all'interno del nostro lavoro che sono dettate dalla velocità a cui siamo obbligati ad andare tutti, per cui la velocità estrema non è amica dell'arte vera, l'arte vera ha bisogno di essere pensata, di essere metabolizzata e soprattutto dal punto di vista dei addetti ai lavori di dare quel tempo umano, come diceva il nostro premio nome Salvatore Quasimodo, di crescere all'artista, invece oggi anche su un album bellissimo, se per caso il primo singolo nelle prime tre settimane non funziona si butta il progetto, quindi bisogna stare molto attenti e il desiderio un po' di tutti, anche se le cose vanno così, è quello di poter tornare un attimino ad avere più coraggio nella selezione degli artisti, ad avere più coraggio nel promuovere anche format e programmi di sostanza, perché è così che faremo un buon servizio con onestà e con dignità artistica nei confronti delle nuove generazioni, è solo così, anche se la trappola della velocità, come si dice, è molto... io penso che oggi il web sia un po' il nostro libero arbitrio, io lo adoro per tante cose, è un mezzo meraviglioso, soprattutto appunto sull'arte, anche sull'arte visiva, io sono anche regista spesso delle mie videoclip, quindi adoro l'immagine e oggi con i telefonini se vuoi fai dei video meravigliosi, per esempio, però stiamo attenti poi a non trascurare quella che è la sostanza di un mezzo meraviglioso che poi sempre l'arte, sappiamo, ha dato delle risposte nei momenti più difficili della storia. Nel 2019 esce Office Alive, giusto? Ho detto bene? Sì, se posso, visto che è così, insomma, sono stato molti anni in America, devi solo cambiare l'accento, è official alive, proprio official alive, pubblicate dal nostro amico Marco Rossi di Azzurra Music. Ora mandiamo in onda il videoclip, poi ne parliamo, va bene? Perfetto! Mamma Blu, adesso dove sei? Senza te come posso fare? Sento un'onda e non so dove... Mamma Blu, aiutami a nuotare, viaggiando in metro, dentro un secolo, da quanto non ho... Un miracolo, quella pancia magnifica, ha una vita che cerca il sole, l'anima nel blu d'Africa, mamma dalle quello che vuole, viaggiando in metro, dentro un secolo. Quando un'onda si infrange sa, che può sempre farsi sentire, A mio figlio l'ho detto già, per valere dovrai partire, viaggiando in metro. Prepotenza no, non ne dare più, questa vita è troppo breve, sapientologi, sapientologi, meglio senza anche per noi. Dona a terra e puoi, dona l'acqua a chi va nel fiume se la beve e senza chi fa la società, la mandare ai figli suoi. Grazie a tutti. 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 E poi con Rossana, Rossana è stata una storia d'amore, abbiamo avuto una storia d'amore importante. io l'ho conosciuta benissimo la Rossana Casale abbiamo duettato è una persona speciale proprio ecco e quindi insomma io ogni volta che ho una collaborazione ce l'ho perché gli artisti fanno parte in qualche modo veramente della mia vita poi c'è stato il coro tutta la corale dei bambini della scuola cantori di Milano che erano più di 40 ospiti musicisti tra cui Rustici chitarrista Simone Bertolotti che è il compagno di quest'artista che molti di voi forse conosceranno Laura L' quindi insomma è stata veramente un momento meraviglioso complice anche la cornice del castello Sforzesco di Milano eh sì certo guarda Alberto 25 minuti con te veramente volano velocemente quindi abbiamo ancora pochi pochissimi minuti eh progetti futuri concerti cosa succede? Ne abbiamo accennato un po' proprio all'inizio quando vi ho citato da oggi a Natale che cosa succederà la Puglia poi sì ci sarà appunto la Puglia poi appunto Brescia per il Lennon Day poi avremo Rai 1 su Teleton il 15 poi a 17 sarò in concerto invece a Bosco Reale Napoli per il concerto per ricordare questo grandioso musicista che aveva cominciato la carriera con me che è Gio Amoruso ehm e poi eh ricordo che sul abbiamo fatto anzi recentemente proprio settimana scorsa un momento molto toccante ho fatto un concerto al carcere Opera di Milano eh c'era anche Don Ciotti c'era Arnoldo Mondadori nipote dell'editore che ha parlato anche di questo aspetto insomma dell'editoria ehm c'era Dorie Ghezzi per la fondazione De Andrè è stato un momento veramente molto toccante perché eravamo nel teatro del carcere di fronte a 400 ospiti di cui insomma c'erano soltanto 70 esterni tutti gli altri erano persone appunto ospiti del carcere chiamiamoli così e quindi e poi ricordo che recentemente potete vedere insomma tutte le produzioni eh la più recente è Mambo Tango e Cia 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 appunto uscita quest'estate e che presto speriamo nascerà anche in spagnolo con delle collaborazioni oltreoceano tra cui eh cito questa artista con cui ho già collaborato Patricia Von Rodriguez che è la sorella di quel Robert Rodriguez regista famoso eh ricordo di Dal tramonto all'alba Macete Alitta che è molto amico e spesso prodotto da Quentin Tarantino benissimo adesso andiamo un attimino su due domande un po' curiose qual è il suo più grande rimpianto il mio più grande rimpianto risale a una collaborazione negli Stati Uniti quando comunque avevo lavorato con lui e sto parlando di Jerry Buckley Jerry Buckley è il leader della band America eh You Can Do Magic non so ve lo ricordate insomma colosso allora con Jerry era tutto pronto studi fissati album musicisti per l'album eccetera per il mio album in americano in inglese insomma per il mercato americano era parliamo di fine anni ottanta era una una cifra da capogiro alla produzione ed era divisa a metà metà per metà ce ne occupavamo io col mio management e metà invece la casa discografica alla quasi vigilia dei lavori la casa discografica non ha quell'introito finanziario che doveva poi girare al nostro progetto e quindi lì per lì decidiamo di posticipare il lavoro che poi tra una serie di cose non è stato più portato a termine quindi questo è il mio l'unico vero grande rammarico ce ne sono tanti piccolini per strada per carità ma quello di carriera è questo perché credo di essere stato tra i pochi artisti italiani che hanno avuto la possibilità di realizzare un album per il mercato statunitense di che cosa paura Alberto Forte ma io ho molta paura in generale diciamo della la cosa che mi viene più spontanea è dire è l'inganno l'inganno mi fa paura perché l'inganno oggi è molto usato perché fa parte dei furbi fa parte di chi vende la pelle dell'orso come si dice e questa cosa mi fa paura non soltanto per piccoli grandi rapporti professionali o anche personali ma proprio per lo stato di salute delle cose del mondo perché se continuiamo a ingannarci a fare i furbi poi alla fine abbiamo il castello di carta che cade chi fa il furbo e quindi chi inganna chiaramente non pensa al dopodomani invece lo deve pensare così come vediamo un mondo continuamente disseminato e costellato di guerre ancora di questa nefandezza e qui io chiamo veramente ad appello la meravigliosa frase di John Lennon quando diceva vabbè you must say I'm a dreamer ma a parte questo che ci hanno convinti che a un certo punto nella società negli equilibri territoriali geoterritoriali ed economici la guerra sia un'emanazione inevitabile per chissà quale motivo ecco questo è un grandissimo inganno questo è quello che fa sì il mondo che è potenzialmente un Eden non si riduciamo a uno stato di guerra con le conseguenze che vediamo in questi giorni quindi speriamo che la specie umana rinsalvisca un po' in quel senso speriamo speriamo come con tutti gli ospiti io ti chiederei di dedicarmi un pensiero il pensiero è questo un pensiero è un desiderio che io dico anche a tutti i miei concerti che dove faccio una dedica a visto che abbiamo parlato di guerre a quelle straordinarie esistenze che nel corso della storia ci ricordano purtroppo grazie al loro sacrificio a quello quello che è veramente il senso della vita e ci ricordano che è importante credere al nostro piccolo grande sogno una catena di straordinarie esistenze che va da Gesù a Mahatma Gandhi a Martin Luther King Junior ai fratelli Kennedy ai giudici Falcone Borsellino a Pierpaolo Pazzini a John Lennon tra gli altri ecco e loro ci ricordano che la nostra vita non è merce da buttare sul mercato ma è piuttosto un fiore che cresce sul ciglio della strada senza niente a nessuno ma sempre pronta a farsi cogliere da chi davvero lo sa riconoscere è il momento di poterci mi auguro riconoscere nella bellezza del nostro percorso di vita che meraviglia grazie purtroppo abbiamo terminato i nostri minutaggi io ti ringrazio ti abbraccio forte forte ti aspetto qui alla SLM ti mando un bacione e buon Natale ringrazio tutti gli spettatori e alla prossima settimana con biglietto da visita ciao ciao